segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te gli hanno detto ma insomma come potete parlare di denazificazione se Zelensky è anche ebreo lui ha detto beh ma anche Hitler secondo me era ebreo e quindi il presidente di Yad Vashem dice false, deliranti e pericolose queste dichiarazioni di Lavrov è degne di ogni condanna. Insomma mi sembra che faccia un po' di confusione storica interessata il ministro degli esteri russo e naturalmente va preso per quello che è io ricordo solo le parole del capo dello SAU Sergio Mattarella che citando alcune frasi Bellascia ha detto mi sono svegliato ho trovato l'invasore ora piaccia o no purtroppo questa volta l'invasore non è il nazismo ma sono le truppe del presidente Putin quindi questo fa capire quanto dal punto di vista storico ci sia un paradosso dei russi che sono stati una forza determinante per scosfiggere il nazismo e oggi si ritrovano in una posizione ingiustificabile che tende ad associarli proprio alle persone che ai movimenti e loro vorrebbero eliminare dall'Ucraina. Devo dire che tra l'altro queste parole nei confronti dell'Italia non mi sorprendono perché non è la prima volta e questo vuol dire o che c'è un avvertimento nei confronti i draghi oppure più probabile c'è una specie di chiamata raccolta di quelle che sono le forze all'interno della maggioranza di draghi le quali secondo Lavrov dovrebbero farsi sentire di più per sabotare questa politica del governo perché perché il governo draghi rispetto agli ultimi due governi a guida grillina è un governo che ha cancellato qualunque ambiguità sulle alleanze internazionali e questo naturalmente a chi su queste ambiguità ha giocato in modo pesante per infiltrarsi in questi anni naturalmente da molto fastidio quello che non si vuole comprendere su questo sono d'accordo con il sottosegretario Moulet è che la guerra rappresenta uno spartiacque non si può pensare che questo sia qualcosa di quasi normale una fisiologica dialettica qua c'è stata un'invasione militare un'aggressione sono bombardamenti contro i civili e credo che il governo non è tanto in prima fila perché in prima fila perché ce ne sono altri penso solo ai britannici che sono molto più radicali e anche a volte con toni esagerati semplicemente l'italia non accetta questa politica il divite ed impera da parte di putin e ha scelto una linea che coerente con quella delle altre nazioni europee degli stati uniti e della nato tutto qua e questo alla russia da fastidio quindi è un messaggio anche alle messaggio alle forze politiche che possono sulle quali ma noi stiamo già vedendo stiamo già vedendo che ci sono delle resistenze di distinguo che noi motiviamo con ragioni elettorali nel senso siccome si va verso le elezioni siccome si pensa che non si va dal voto anticipato ognuno si prende i suoi spazi identitari per colpire il governo mi riferisco al movimento 5 stelle mi riferisco anche alla lega ma ci sono anche frange in altri partiti anche nel pd c'è una frangia che non vede a mio avviso di buon occhio questo questo atteggiamento quindi ce ne sono diverse che non lo fanno solo per motivi elettorali secondo me non lo fanno per motivi elettorali ma perché soprattutto penso alla lega di salvini ma forse anche alcune componenti del movimento 5 stelle o hanno un credito comunque c'è un pregiudizio antinato anti americano che è molto forte che si salda con qualche mal di pancia rispetto ad una politica europea che hanno magari abbracciato in modo molto frettoloso e non molto convinto vado da loredana de petris per chiederle se condivide questa questa